Visto che tu non mi avresti mai fatto una lettera, ci ho pensato io, come sempre. Questo è l'ultimo bigliettino che ti scrivo da fidanzati. Tra qualche ora saremo marito e moglie. Finalmente ci siamo. Ti prometto che sarò sempre sincera e che non te la farò passare sempre liscia. Non vedo l'ora di pronunciare il nostro sì. Perché io sono forte e completa solo se ci sei il tuo cuore. Visto, 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 visto.